Il commissariamento dell'Arti, l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, era arrivato nel pomeriggio di mercoledì, portando con sé un alone di mistero. Il perché però è stato svelato con un comunicato della Guardia di Finanza di Bari giunto nella serata. Alfonso Pisicchio, ex numero uno dell'ente, e suo fratello Enzo sono finiti ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari che riguarda presunti appalti truccati. I reati contestati all'ex assessore regionale Alfonso insieme ad altre sei persone, una in carcere, quattro ai domiciliari e due destinatari del divieto di esercitare le attività professionali, sono corruzione, truffa aggravata e turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. In carcere finito Cosimo Napoletano, ai domiciliari il dirigente comunale Francesco Catanese e l'imprenditore Giovanni Riefoli. Nell'ordinanza firmata dalla GIP del Tribunale del Capologo e l'area caso si spiega che le accuse di corruzione e turbata libertà degli incanti riguardano il periodo in cui Alfonso Pisicchio era assessore della Giunta Emiliano, quando avrebbe utilizzato la sua influenza politica e le sue relazioni per una gestione clientelare del suo ruolo. Enzo Pisicchio invece sarebbe stato il suo faccendiere. I due Pisicchio in concorso con il dirigente comunale Catanese e con un componente della commissione di gara rispondono anche di corruzione per aver truccato l'appalto per l'affidamento della riscossione della Tarsu, Tares, Tari e Imo in favore della Golem Plus. In cambio i due dipendenti avrebbero ricevuto l'assunzione di mogli e figli. Enzo Pisicchio avrebbe invece ottenuto l'acquisto di mobili, feste private, un cellulare, un tablet e l'assunzione fittizia della figlia Rebecca, mentre il fratello Alfonso avrebbe potuto indicare chi assumere in base alla preferenza elettorale. L'inchiesta è partita dalla testimonianza della dirigente regionale Barbara Valenzano, che al Noe dei Carabinieri ha raccontato delle irregolarità rilevate nelle decisioni di un funzionario del Servizio Attività Estrattive.